disegnare questa pecorella con il vostro bimbo è molto semplice munitevi di una matita e di una penna e alla fine di una gomma per cancellare partite disegnando prima il corpo della pecorella e lo fate piuttosto tondo in questo modo dopodiché disegnate quello che sarà l'ovale come questo della nostra pecorella a questo punto prendete la penna e ripassate il corpo della pecorella facendo la classica pelliccia facendola bella sbuffosa così di buono che sia una pecorella che già sa di morbidoso e di goccoloso eccola qui nel contempo ripassate quella che è la testa della pecorella eccola qui e già potete iniziare a disegnare quelle che sono le sue gambe mi raccomando le gambe più indietro le zampe pietro le facciamo un po più corte quelle sul davanti le facciamo un po più lunghe e lo stesso vale per le zampe che stanno di dietro disegniamo anche le vero e proprie zampe della pecore dopodiché mancano gli occhi e il naso e le orecchie molto semplice per gli occhi le disegniamo uno un po più piccolo qui magari tondo e uno un po più grande in questa posizione di modo che la pecorella poi sia anche un po buffa due puntini per il naso poi facciamo anche le due pupille della nostra pecorella e a questo punto cosa mancano? mancano solo le orecchie della nostra amata pecorella le facciamo belle morbide in questo modo e la pecorella è disegnata grazie grazie grazie